Un altro tema caldo in questi giorni è il tema della sicurezza. Voi avete dei dati allarmanti per quanto riguarda le strade. Esatto, per quanto riguarda la sezione della Polizia Stradale di Fano è stata accorpata a fine maggio del 2017 alla Polizia Autostradale ed è per questo che viene utilizzata praticamente quasi esclusivamente in autostrada, dimenticandosi di essere utilizzata invece nelle vie ordinarie come era originariamente. Facendo proprio un confronto tra i due periodi del 2016-2017, da giugno a settembre 2016 e giugno a settembre 2017, si è accorti che si è passati dai 200 pattugliamenti ai 100 pattugliamenti, quindi la metà praticamente quasi esatta della presenza sul territorio della Polizia Stradale Fanese. Ecco, purtroppo questo noi l'avamo già previsto da tempo, già appunto dal trasferimento che c'è stato nel 2017, giugno 2017. Il sindaco purtroppo non ha battuto ciglio, noi gli abbiamo suggerito invece di fare un po' la voce grossa a questo punto. Lui ci aveva rassicurato addirittura in consiglio comunale e dopo pochi giorni purtroppo c'è stato l'accorpamento con questi risultati. Ora con la mozione che abbiamo presentato in consiglio comunale chiediamo sempre al sindaco che si dia una svegliata, una mossa finalmente, per far sì che nel sede opportune, chiaramente attraverso azioni concrete, si possa rispettare almeno l'organigramma del personale che c'è appunto oggi nella sezione autostradale di Fano, in modo che chi è deputato dal punto di vista delle sue mansioni alla vigilanza nelle strade ordinarie possa fare questo nel pieno delle sue facoltà e che quindi si riequilibri un po' la situazione autostradale e quella delle vie ordinarie cittadine fanesi e anche i limitrofe. In alternativa chiediamo eventualmente anche un potenziamento delle sezioni stradali della polizia stradale limitrofe a quella di Fano, in modo che comunque sia con più personale di nuovo la nostra città possa essere sorvegliata maggiormente per dare quindi più sicurezza ai cittadini fanesi.